Situato ad Agra, nell'India settentrionale, il Thaïma'al. Mausoleo costruito nel 1632 dall'imperatore Mogul Sajan in memoria dell'amatissima moglie Mumtaz Ma'al. L'edificio è interamente rivestito di marmo bianco. Tutta l'opera è perfettamente simmetrica anche nella distribuzione degli spazi pieni e vuoti. Vista da un arco della porta d'accesso all'area. L'intero complesso si basa sui principi di simmetria e di geometria autoreplicante. Affiancati alla tomba, la moschea e il Javad, di uguale grandezza, sono costruiti in arenaria rossa in contrapposizione cromatica al bianco del marmo del mausoleo. Il fiume Iumana che alimenta le vasche dei giardini di questo straordinario complesso. Situato nella città di Agra, nel Rajasthan, il nome Taimahal significa letteralmente palazzo della corona. Emblema dell'India e simbolo dell'amore eterno. Il poeta Dagore la definisce una lacrima di marmo poggiata sulla guancia del tempo. E gli uccelli al rosso tramonto intrecciano voli nel cielo. Grazie. Grazie. Grazie.